Ciao a tutti da Salvatore, grandissima sorpresa, mi trovo qui con due gradi, il maestro Boldi, Massimo Cicchino, grande palizzo, casa grande, facciamo gli auguri. Buon Natale, andate al cinema, a vedere qualsiasi film, andate a vedere Natale da Chef, Natale da Chef, è meglio, è meglio. Fate una scorpacciata e risate, io rido ancora adesso, ho pianto da ridere. Sei troppo forte, ciao!